Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Prosegue senza troppi intoppi la fase di tempo stabile con solo alcune eccezioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 24 giugno. Nuvosità in transito al mattino al centro-sud con isolate piogge non escluse tra Lazio e Abruzzo. Ampi spazi di sereno al nord. Al pomeriggio instabilità in aumento al nord-ovest con temporali localmente anche intensi sul Piemonte. Variabilità asciutta altrove con qualche addensamento in transito al sud. In serata è notata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento specie al sud e massime in diminuzione. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.